Ieri in occasione della scinnuta del Sacro Gruppo La Negazione, curato dal ceto dei barbieri e parrucchieri, i consoli e i collaboratori hanno distribuito in piazza Purgatorio delle piantine fiorite a tutti i bambini presenti. Il gesto simbolico vuole essere un modo per ricordare il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. La scelta di donare le piante ai bambini è data dal fatto che in ogni guerra non ci sono mai né vincitori né vinti. La sofferenza è di tutti, ma quelli che pagheranno di più per questi assurdi conflitti sono proprio i bambini. A loro l'augurio di vivere in un mondo di pace è che nessuna guerra tolga loro il sorriso per dar posto a lacrime e sofferenza. La scelta di donare le piante ai bambini è la scelta.